E' una vita, sospesa, sono un po' ignorante, è una vita, è un po' una vita, sospesa, la vita, la vita, la vita da Abbiella, della macchina 46, del motore 46, di un signore che si chiama Michael Schumacher. E' una vita, sospesa questa, ci sono momenti in cui le parole, troppe parole uservono, ci sono momenti in cui vionirsi e pregare, se c'è cazzo da fare, o se c'è qualcosa da fare smetti di farlo, o farlo dopo, prega per Michael, sentila. Se c'è che vedi. E' una vita, sospesa questa, ci sono momenti in cui vionirsi e pregare, se cazzo da fare smetti di farlo. E' una vita, sospesa questa, ci sono momenti in cui vionirsi e pregare, se cazzo da fare smetti di farlo. E' una vita, sospesa questa, ci sono momenti in cui vionirsi e pregare, se cazzo da fare smetti di farlo. E' una vita, sospesa questa, ci sono momenti in cui vionirsi e pregare. E' una vita, sospesa questa, ci sono momenti in cui vionirsi e pregare. E' una vita, sospesa questa, ci sono momenti in cui vionirsi e pregare. E' una vita, sospesa questa, ci sono momenti in cui vionirsi e pregare. E' una vita, sospesa questa, ci sono momenti in cui vionirsi e pregare. vecchio se non hai niente la fa prega per Michael credo sia il migliore investimento che possiamo fare ci ha dato tanto un sacco di emozioni a me mi hanno dato il sacco che non erano né dovute né gratuite né scontate e allora posso fare niente altro prega per Michael grazie a tutti 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 grazie a tutti